L'ampliamento della discarica di Cerratina deve essere deciso dalla politica e non da un tecnico e la politica, in consiglio comunale a Lanciano, ha detto no. Questa è la replica di Tonia Paolucci, capogruppo di Libertà in Azione, che ricorda al presidente di Eccola nel suo ruolo di tecnico incaricato dai sindaci del comprensorio. Massimo Ragneri, nella recente assemblea di rinnovo della presidenza, aveva riferito degli incontri avuti recentemente con i gruppi consigliari di Lanciano, di maggioranza e di minoranza. Sono rimasta veramente sbalordita da quando ho affermato dal presidente Eccolan, che onestamente mi è sembrato più un consigliere comunale, un assessore, piuttosto che un amministratore delegato dalla politica ad amministrare una società in house. Questo però l'errore non è che l'ha fatto Massimo Ragneri, l'ha fatto il sindaco di Lanciano, presidente dell'assemblea, che ha permesso al presidente di una partecipata di esprimersi con pareri molto spesso del tipo politico. Se lui sia contrario a me dispiace, ma lui deve tener conto del giudizio e della votazione che è venuta fuori dal consiglio comunale. Il consiglio comunale di Lanciano è stato chiaro, ha detto no all'ampliamento della discarica. Poi non è lui che deve chiamare i consiglieri comunali come ha fatto nei confronti della sottoscritta davanti ad un caffè, ma bensì era il sindaco di Lanciano, e questo è il problema serio, che il sindaco di Lanciano non ha sentito la necessità e l'esigenza di rivolgersi all'unico organo sovrano in questo momento rispetto a questa decisione, che era il consiglio comunale. Del resto lo ha fatto nei confronti della sua maggioranza, lo ha fatto nei confronti di noi, dell'opposizione, a cui non ha detto assolutamente nulla. Un atto pubblico, qual è il disciplinare desproprio, ha un valore a tutti gli effetti. È inutile che si voglia sminuire, perché solo oggi si leggono gli articoli dell'atto pubblico in seno alle assemblee, o le assemblee si rendono pubbliche perché sono state riportate su tutti i social. Perché non sono state mai fatte queste assemblee veramente pubbliche? Perché il 16 dicembre non è stato letto già il disciplinare desproprio, che era già stato firmato ad ottobre del 2019? Quando il presidente Eccola ha chiamato i vari consiglieri e l'ha sottoscritta solo davanti ad un caffè, non ha detto che era stato firmato, bastava dare quella documentazione, fornire ai consiglieri comunali la documentazione giusta per poter fare le adeguate valutazioni. E lì, prima di quel punto K, c'è un punto fondamentale che dice che il concessionario è stato più volte sollecitato dalla Eccola all'ampliamento della discarica di Cerratina. E poi la cosa più importante sono tutti i punti successivi in cui vengono regolamentati i rapporti con il concessionario di tipo prettamente privato tra la Eccola e il concessionario stesso. E il punto finale è che tutto questo investimento verrà ripreso dal concessionario tramite la tariffa. Questi sono gli argomenti sui quali il consiglio comunale si doveva esprimere prima di tutto questo e quello che mi meraviglia, lo ripeto ancora un'altra volta, è l'atteggiamento del sindaco Mario Pupillo che doveva coinvolgere il consiglio comunale e non doveva permettere ad un suo, diciamo, tecnico, perché è stato nominato dai politici di chiamare i consiglieri comunali. Il tecnico fa il tecnico, il consigliere comunale fa la politica. Nel momento in cui il tecnico vuole dismettere gli abiti da tecnico scende in campo, prende i voti e si viene a sedere in consiglio comunale.